Raccontare i 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso prende il via il 20 settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori tre lavori di ogni categoria. Il Presidente Cattani al 20 settembre prende il via un concorso per raccontare la storia della regione con i dati pubblici. Partendo utilizzando i dati di Open Data, un'innovazione su cui noi crediamo molto, abbiamo bandito questo concorso perché vogliamo che dalla creatività e dalla fantasia si possa passare dalle parole e dalla grafica tradizionale a qualche cosa, quindi a una metodologia più accattivante che dia immediatamente all'utente la percezione di quanto la regione, indipendentemente da chi l'ha governata, ha fatto per il Piemonte e il Piemonte in 40 anni.